ciao a tutti ragazzi io sono maki ed eccoci qui con il primo episodio della nuova serie dedicata alla nuova espansione che sarebbe quella dei cani e dei gatti allora sono gasatissima per questa espansione e veramente ci tenevo a fare un nuovo un nuovo let's play completamente appunto nuovo perché voglio concentrarmi al massimo sui piccoli animaletti sulla carriera veterinaria perché mi sembra molto interessante e quindi abbiamo delle nuove famiglie delle nuove persone dei nuovi animaletti appunto allora iniziamo subito a presentarvi lei lei sarebbe arabella cornell arabella praticamente è fidanzata non ufficialmente con james green che sarebbe lui ma sta ancora dormendo e si sono trasferiti da poco in questa casa che non ho costruito io era già nel gioco ma è stata modificata da little simsy molto carina lui diciamo che è abbastanza benestante di famiglia lei un po meno comunque è stato lui ad insistere per prendere una casa così grande perché lei in realtà ne avrebbe preferito vivere in una casa più piccola comunque allora parliamo un attimo di lui james è figlio unico ed è figlio di aspettate che li trovo di charles green e di amanda green quindi loro sono i suoi genitori poi arabella invece ha una famiglia molto molto grande innanzitutto il suo padre biologico è dustin dustin cornell dustin era sposato appunto con la madre di con la madre di arabella soltanto che poi purtroppo la madre di arabella è morta dopo un incidente detto questo niente sono passati degli anni ovviamente lei era piccola quando è successo però era diciamo tra virgolette grande abbastanza da capire la gravità della situazione e le mancava ovviamente sua madre però dopo vari anni i due sono riusciti ad andare avanti e dustin ha trovato l'amore tra le braccia di kalid perché dustin è bisessuale e niente si è sposato poi con kalid dopo un bel po di tempo che hanno iniziato a frequentarsi e si sono messi insieme quindi poi si sono sposati quindi lei è andata a vivere ovviamente con con loro e poi sempre dustin e kalid hanno adottato ben quattro giusto quattro bambini ragazzi allora il primo ad essere stato adottato è stato tyler quindi infatti si chiama tyler hansen hansen cornell perché hansen è il suo cognome e quindi lui è stato il primo ad essere stato adottato molti anni prima quando era ancora un bambino poi è stato adottata alicia alicia hansen cornell e infine i due gemelli lia niara e donny che sono adorabili poi che altro dire allora dustin quando ancora era sposato con la moglie e quando arabella era ancora una bambina aveva comprato un cucciolo che si chiamava gem questo cucciolo adesso è diventata anziana e ancora comunque vive con loro e praticamente è la migliore amica di arabella perché l'è stata vicina sin da quando appunto era una bebè e è veramente è molto legata a questo animale poi però dopo che si è sposato con kalid hanno comprato un altro cane che si chiama buddy che è un golden retriever mentre oddio lui la razza non mi ricordo come si chiama comunque poi in caso vedremo nel crea un sim adesso che lei si è trasferita con il suo fidanzato hanno adottato un piccolo meticcio che si chiama obelix che è adorabile guardatelo eccolo qui è fantastico solo che adesso mi sa che gli dobbiamo fare il bagno quindi svegliamolo allora intanto che lo svegliamo vi spiego un pochino cosa vuole arabella dalla vita diciamo tra virgolette perché è un argomento un po profondo questo comunque lei intanto adora gli animali ovviamente e ha sempre voluto fare la clinica veterinaria detto ciò lei lavora di fatti in una clinica veterinaria guardate che carino è fantastico lavora in una clinica veterinaria e vabbè ovviamente nel gioco qui la gestisce lei ma io con la mia immaginazione mi immagino che lei semplicemente ci lavora ma non è la proprietaria ecco allora ti posso fare il bagno penso di sì ce la facciamo sì ok e quindi niente lei lavora in questa clinica veterinaria ed è praticamente il lavoro dei suoi sogni ok carino è il lavoro dei suoi sogni le piace tantissimo e diciamo che al momento è una delle poche cose di cui lei è assolutamente sicura lo smanet show non mi interessa parlando invece del suo rapporto con james diciamo che allora ovviamente lei lo ama tantissimo altrimenti non sarebbero andati a vivere insieme cioè sarebbe un po assurdo però il problema è che loro due hanno delle visioni un po differenti in che senso nel senso che lei arabella vorrebbe prendere le cose con un po di calma infatti per lei questo trasferimento è stata una scelta molto ci ha pensato molto prima di prendere questa scelta e per lei è stata difficile perché ci ha dovuto pensare molto mentre james vuole passare proprio avanti a manetta cioè lui già si vede proprio con i con i figli con lei così lei invece è molto più lenta in quel senso preferisce prendere le cose con calma e pensare soltanto al presente quindi non so se questo poi in futuro sarà un problema oppure no chi lo sa comunque sì lei anche ha anche un'altra migliore amica è una migliore amica solo che non so perché non è ancora qui nelle sue amicizie ok tu sei tutto pulito o santo cielo facciamo una cosa ti prendo in braccio è ancora un cucciolo quindi purtroppo non può scendere le scale da solo io adesso lo prendo in braccio e lo porto qui così se vuole può mangiare ok e noi ce ne andiamo subito alla clinica veterinaria perché lei deve andare a lavorare anzi già sta perdendo un po di tempo però dovevamo occuparci del nostro piccolo cagnolino che è adorabile magari poi appena finiamo la giornata in clinica andiamo nel crown sim così vi faccio vedere più da vicino tutti ok detto questo andiamo subito in clinica viaggia ok siamo arrivati alla clinica veterinaria che ho scaricato dalla galleria e la adoro tantissimo cioè guardatela praticamente la clinica è dove viviamo noi cioè lei cammina per neanche cinque minuti ed è già arrivata comunque ve la faccio vedere da dentro è molto carina allora questa è l'entrata qui i pazienti si registrano e c'è diciamo la sala d'attesa poi qui c'è una sala per i pazienti appunto per esaminarli qui una sala con questo tipo tavolo operatorio non so come definirlo poi ci sono anche dei bagni qui c'è un ufficio e poi qui un'altra sala operatoria io volevo assumere però un dipendente perché per per il momento lei lavora da sola però mi piacerebbe che ci fosse qualcuno guarda assumiamo lei ok benissimo così almeno non siamo sole direi comunque di venire qui è aprire la clinica e vediamo un po chi sono i primi clienti allora era bello assunto ok magari vediamo se possiamo dire qualche cosa promuovi chiedi di produrre guarda produci dei dolcetti perché questi dolcetti noi li possiamo mettere qui e li possiamo vendere ok ma salve ma chi sei allora a prima si deve registrare darren clayton è venuto mi mi sa con il suo gatto quindi adesso occupiamoci subito di questo nostro paziente vediamo che cosa c'ha ok saluta calorosamente il paziente non male darren questo ragazzo in realtà come vedete lei già lo conosce perché è venuto diverse volte qui in clinica a far controllare i suoi animali che è un po strano perché il più delle volte i suoi animali stavano bene quindi non lo so questo suo interesse a cosa è dovuto allora vorrei visitare l'animale però sì scusi ma devo visitare il suo gatto come si chiama il gatto nacio grandissimo o qualcuno ha vomitato ai 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 allora vediamo subito come funziona la carriera veterinaria allora per visitarli intanto devono salire qui ottimo ok come vedete qui mi spuntano queste cose allora questa è lo stress questa è la barra dello stress del paziente quindi noi dobbiamo cercare di non farlo stressare troppo dobbiamo dobbiamo scoprire noi questi sintomi che ha il paziente così da scoprire la diagnosi finita è un po come la carriera medico di di al lavoro praticamente dell'espansione al lavoro quindi non dovrebbe essere molto difficile allora direi misurare la temperatura come inizio ok perfetto cacca color arcobaleno buono a sapersi ascoltiamo il respiro ok vediamo un po a pulsazioni rapide proviamo ad esaminare la bocca vediamo un po che succede ok l'abbiamo trovata peste della cacca prismatica ok questa volta il suo animale ha davvero qualche cosa allora terapia adesso possiamo vedere qui come vedete ci sono varie opzioni però sono tutte con il pollice in giù mentre l'unica col pollice in su è questa qui quindi biscotto con farmaco x è sicuramente la terapia giusta quindi diamogli la terapia ok prendilo bravissimo e direi che possiamo ok stiamo parlando con lui mi sa ok nacho sta benissimo grazie per essere venuto qui non posso fare nulla va bene ciao e grazie per essere venuto o ce n'è un altro come vedete lei sta visitando un altro gattino intanto noi veniamo a salutare questo paziente ci vediamo e alla prossima ok il mio animale era piuttosto tranquillo mentre eravamo qui o che è carino come vedete lei comunque ha i capelli ricci ok da un po teo non sembra più quello di sempre e penso che ci possa essere qualcosa che non va potresti dargli un'occhiata ma certo vediamo un po che succede a questo povero teo ok seguitemi e vediamo un po su sì comunque il fatto che sia blu mi sa che è un sintomo di qualunque cosa lui abbia quindi cerchiamo di risolvere al più presto ok uh ma lui è già tesissimo calmiamolo subito calma l'animale assolutamente perché altrimenti non possiamo fare nulla poverino ma oh facciamo una bella foto ok così benissimo ok dai cioè proprio tesissimo come vedete la clinica veterinaria funziona un po come i ristoranti di mangiamo fuori c'è la stellina qui e dobbiamo vedere se andiamo bene allora esaminiamo misuriamo la temperatura perché lui tanto si è calmato anche questo qui è blu e ha il naso rosso oh santo cielo uh ne abbiamo ne abbiamo fatte due pelo glaciale e temperatura bassa proviamo a ispezionare il pelo o la pelle vediamo subito vediamo se troviamo qualche cosa ce l'abbiamo fatta febbre della ghiacciaia curiamolo subito quindi terapia ecco qua pratica un'iniezione carico antivirale stai calmo eh tranquilla abbiamo fatto è tutto a posto ce l'abbiamo uh abbiamo raggiunto il livello 5 ottimo ah era marrone questo cane che carino benissimo ok occupiamoci adesso di questo dove va lei signora salute il paziente scusi ma lei non dovrebbe stare qui salutiamo la signora aspettiamo che teo se ne vada uh abbiamo due stelle ottimo ok la stessa cosa di prima va bene occupiamoci di com'è che si chiama grant perfetto ciao teo buona giornata guardate che carini io ragazzi non vedo l'ora di creare la volpe io ve lo dico per la fox legacy perché tornerà prestissimo ho fatto un sacco di cose interessanti ve lo dico ok allora uh lui è un po' teso però credo che possiamo fare qualcosina prima quindi misuriamo la temperatura innanzitutto ok uh ne abbiamo trovati due ottimo proviamo a fare ascolta il cuore mi sa che anche lui ha quella febbre della ghiacciaia niente mi sa che è meglio calmarlo perché sta aumentando lo stress quindi è decisamente meglio uh come corre questo gatto uh ma qui c'è vomito dappertutto devo assolutamente pulire quanto abbiamo lavorato a quattro ore possiamo stare ancora un po' non si preoccupi ok come vede è più calmo adesso ispezioniamo la pelle e il pelo lei peraltro deve andare in bagno ok uh ce l'abbiamo fatta no lui ne ha un'altra febbre festivaliera invernale ah ce ne sono ce ne sono di tanti tipi ok terapia e facciamo il dolcetto di tutta post bellissimo il dolcetto di tutta post sarà il titolo del video the sims 4 cani e gatti dolcetto di tutta post episodio 1 oh che carino questo gatto ok benissimo detto questo asciughiamo qui queste pozze per favore e poi andiamo in bagno sono neutri quindi possiamo andare ovunque vediamo chi c'è qui ok un altro gatto però da molti gatti arrivano forse un solo cane è venuto solo teo forse sì mi sa di sì ok puliamo ma lo hai curato non capisco ha vomitato pure lui non ci credo ma se ne va ma dove va ok pulisci questa lei se ne va così mi sa che a lui ci devo pensare io quindi iniziamo a visitarlo eh sì ah no mi sa che sta andando ok come non detto vai tu se lo fai però sì perfetto allora noi ci occupiamo di lui ma se ne va di nuovo ma vabbè senti me ne occupo io andiamo non ti preoccupare ti curo io gattino ok sali lui ha le zampe che uh come è teso rassicura l'animale vediamo cosa cambia prima c'era solo calma vediamo un po' ah questo fa prima ok esamina misuriamo la temperatura come vedete che ora ce ne sono di più di queste cose oddio le abbiamo trovate tutte oddio le abbiamo trovate tutte in un solo colpo ok di nuovo il dolcetto tutto a posto vai forza su che tutto a posto appunto perfetto benissimo è stato un piacere vediamo chi altro c'è ok poi non ce ne sono più quindi io direi di non ammettere più nuovi clienti perché già stiamo lavorando abbastanza ci dovrebbe essere qui però qualcosa per mangiare aspettate aggiungo togliamo questa finestra e qui ci metto magari un un frigorifero tipo questo no però devo fare move objects ok così almeno possiamo mangiare vabbè che forse lei non ha fa ah un pochino no fai una cosa vieni qui e gioco un po' a blocco oblique così magari aumentiamo il divertimento questa cosa della clinica veterinaria è davvero interessantissima io non vedevo l'ora di giocarci perché ero troppo curioso davvero molto carina come come nuova come nuova cosa che hanno aggiunto ecco ok dai magari adesso ti fai anche un pasto veloce e ti prendi biscotti e forma di animali giusto per rimanere in tema aspettiamo che lei finisca intanto con questo gatto come si chiama quasar bello come nome poi dobbiamo pulire questi vomiti che sbucano dal nulla oddio qua pure oh santo cielo dove siamo ah ok stiamo facendo compagnia alla nostra collega oh si ha vomitato ok poi puoi asciugare qui asciugare qui e asciugare qui ma la barretta lei l'ha fatta no o se l'ha fatta se l'è tenuta lei ah no oh ok mettiamola qua ecco qua come vedete qui si mettono tutte le cose per gli animali un altro vomito ma è incredibile ok dai abbiamo finito aspettiamo che lei ci paghi benissimo e direi che possiamo chiudere va bene cosa non posso si se magari andate perché abbiamo chiuso ma perché non li puoi sono un po' confusa vediamo se ce la fa ah ce la fa va bene ce l'abbiamo fatta ah ok ora li pulisce tutti bene ok dai che torniamo a casa così vi faccio vedere il crown sim benissimo dai torniamo a casa allora eccoci nel crown sim vi faccio vedere come come sono questi questi sim e come è il nostro cucciolino allora questa è arabella ed io la adoro tantissimo allora il suo outfit è questo non mi pare di averne aggiunti altri no infatti allora questo è il suo abito formale poi c'è l'abito sportivo poi da notte che avete visto prima comunque poi da festa e infine il costume e infine il costume da bagno lei è buona è amante della famiglia ed è allegra e vuole una grande famiglia felice poi abbiamo James Green lui vuole una progenie di successo è amante della famiglia è ambizioso ed è attivo allora questo vabbè il suo abito da notte poi il suo abito quotidiano formale poi sportivo da festa e infine il costume da bagno e vi faccio vedere com'è più da vicino ecco questo è lui molto molto carino e infine abbiamo il nostro piccolo Obelix guardatelo è adorabile è adorabile cioè stupendo stupendo allora vediamo se mi dice lui che incrocio è perché non mi ricordo no mi sa che non me lo dice però sono sicura che è tra un aspettate che cos'è questo no allora è tra dove 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 un king charles spaniel quello lo so per certo e poi ce n'è un altro che però non mi ricordo ecco king charles spaniel un altro che però ecco questo qua lascia a pso se non sbaglio sì comunque è adorabile io lo amo alla follia e lui è intelligente assordante e testardo poi ovviamente ci sono vari altri tratti però questi sono quelli che io ho assegnato e lo adoro alla follia ok lei la mando a fare una doccia lui dov'è lui è qui oh che carino si rincorre la coda magari vieni qui e abbraccialo dai sei stato in pigiama tutto il giorno mentre noi abbiamo lavorato ok su che ti abbracciamo oh guardate ok io direi che possiamo fermarci qui con questo episodio una cosa ho letto i vostri commenti e so che sono sparita di nuovo però ragazzi purtroppo io vorrei registrare ogni giorno e pubblicare ogni giorno però purtroppo per vari problemi e varie cose io non posso quindi sparirò di tanto in tanto sappiatelo però non posso farci niente però spero che continuate a seguirmi perché comunque io non ho intenzione di lasciare youtube e di andarmene perché mi piace tantissimo fare video e ogni volta che posso cerco di farlo quindi detto questo io vi mando un bacio enorme sono gasatissima per questa serie non vedo l'ora di continuare e niente quindi vi mando un bacio enorme vi ricordo di mettere mi piace di commentare di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao